Vediamo come è possibile modificare il testo presente in una qualsiasi pagina web realizzata ovviamente con codice html conoscendo semplicemente un po' di html scusate il gioco di parole passiamo alla pratica in questo caso uso la combinazione command alt u per visualizzare il sorgente della pagina questo è il codice html che genera questa pagina è incomprensibile e noi non ci importa andiamo direttamente al testo di interesse utilizzo lo strumento esamina per selezionare il testo che mi interessa selezionato l'elemento visualizzo qui e trovo il testo che mi interessa prima invio e ho applicato la prima modifica riprendo lo strumento esamina e mi muovo nel sorgente ecco qui posso scrivere quello che vuol posso modificare così l'intera conversazione a questo punto però non posso aggiungere un nuovo elemento qui posso solo modificare il testo già presente è stato visualizzato a 15 ad esempio ora abbandonando lo strumento esamina posso fare uno screen di quest'area e inviare la conversazione ad un amico posso solo inviare la conversazione attestando qualcosa che non è vero ho inviare la conversazione attestando del fatto l'elemento è attestando